E' con noi Carla Caccio, giornalista romana, autrice di Marò, le voci dei protagonisti. Una giornalista che ha scavato alla ricerca di verità nascoste sul caso dei Marò. E' doveroso, secondo me, per chi vuole fare ancora giornalismo d'inchiesta, cercare di capire quello che è successo ai due fucilieri di Marina, ai due connazionali, la Torre Girone, dallo scorso 15 febbraio del 2012. Una vicenda che ha moltissimi lati oscuri, una vicenda che sarà sicuramente ricordata sui libri di storia e che ancora ha troppi punti interrogativi. Attraverso questo libro, strutturato da interviste a personaggi che a diverso titolo hanno preso parte alla vicenda, ho cercato di dare delle risposte. Questa storia ha gli elementi per entrare in un affare di Stato? È già un affare di Stato e sicuramente quando i due fucilieri di Marina ritorneranno in Italia bisognerà stabilire le responsabilità. Lei racconta i fatti, parecchie interviste fatte a chi ha vissuto in prima persona questo affare di Stato. Dicevali prima, ci sono delle dichiarazioni delle mogli dei due Marò, delle dichiarazioni fatte anche dall'ammiraglio Pagnottella, dal senatore Gramazio. Ecco, quanto è importante secondo lei che l'opinione pubblica sappia? È fondamentale perché finora è stata malinterpretata la vicenda perché una parte dei mass media non l'ha comunicata nella maniera più corretta e ha omesso determinati particolari. È importante che gli italiani capiscano che qui non si vuole lasciare impuniti dei responsabili, qualora lo fossero, perché anche questo è tutto da accertare. Quello che si vuole è che ci sia un giusto processo secondo le leggi internazionali e quindi un processo che avvenga in Italia, come doveva essere. Perché essendo il fatto avvenuto su una nave, quindi la sovranità è della bandiera, oltretutto in acque internazionali, quindi eventualmente una competenza internazionale, certamente non indiana. Dietro le quinte si muovono settori economici nazionali? Beh, questo si è detto, insomma si sa che c'erano degli interessi economici, dei rapporti economici forti, fin meccanica, la questione degli elicotteri, ma anche altre questioni. Insomma, l'India, comunque in India ci sono diversi interessi del nostro paese, però questo non giustifica l'abbandono di questi due soldati, anche perché questo è un segno di debolezza. Insomma, ci insegnano tutti che alla fine se in un rapporto non c'è una parità di intenti, alla fine va tutto male. Di fatti tutte le commesse, tutti gli interessi economici sono venuti meno, quindi se anche le motivazioni fossero state queste non hanno portato a niente. Quando sono tornati in Italia, perché non sono stati trattenuti, perché non si è chiesto l'arbitrato nazionale? Questo è l'altro, diciamo, è uno dei due nodi salienti della vicenda e questo diciamo che lo chiarisce appieno la forte intervista, che è un'intervista bomba dell'allora ministro degli esteri Giulio Terzi di Sant'Agata, oggi ambasciatore, il quale appunto spiega nel dettaglio quelli che sono stati i passaggi di una vicenda che infatti hanno portato all'inizio ad una volontà di apertura da parte del governo e quindi ad una volontà di risolvere la situazione trattenendo i Marò, che poi bisogna sottolineare che il fatto di trattenerli non avrebbe violato alcunché, perché c'era un discorso di un esposto alla procura di Roma, quindi c'erano anche gli appigli giuridici per farli rimanere. Il fatto che poi ci sia stato un dietrofront repentino, questo è un punto scuro, un punto scuro al quale ha reagito l'allora ministro Terzi con le sue dimissioni, dimissioni che non sono state capite all'inizio perché la stampa, insomma, anche lì l'ha presentata come quasi un atto invece di sconfitta, quando invece era un atto di protesta, quindi anche lì c'è il passaggio forse più oscuro e più delicato di tutta la vicenda che purtroppo, insomma, ancora va avanti per ipotesi e chiaramente ognuno dei protagonisti del mio libro dà la sua interpretazione che però non posso svelare. Secondo lei, dopo il malore occorso ad uno dei due militari, le cose cambieranno? Ci sarà un'accelerata del governo italiano oppure gli indiani continueranno a prenderci per i fondelli? Allora, io mi auguro, purtroppo anche se è brutto augurare una soluzione collegata ad un malore, però mi auguro, visto che, insomma, è da aprile che anche il governo Renzi ha, diciamo, in pompa magna annunciato che ci sarebbe stata questa accelerazione, questa fase di internazionalizzazione che poi nei fatti non è avvenuta, io mi auguro che adesso di fronte a una disgrazia umana qualcosa si muova, però è triste constatarlo, se così dovesse essere bisogna dire che a questo punto è stata la paura a muovere, però adesso la cosa importante è che i soldati tornino in Italia e che quindi i diritti umani che sono violati da quasi 30 mesi insomma, che finisca questa situazione di violazione, ecco, dei diritti umani. Lei ha avuto le dipendenze due marò quando era impegnato nel battaglione San Marco, un fatto di dignità nazionale, quindi. Come tutti coloro che servono fedelmente queste istituzioni, si aspettano nei momenti di difficoltà individuale che le istituzioni si schierino incondizionatamente e totalmente, insomma, a favore di chi si trova in quel momento in difficoltà. Ma come giustamente diceva la nostra scrittrice, ci sono 10.000 militari in giro per il mondo a vario titolo, adesso non so se ho dato un numero certo, però ai miei tempi, tra virgolette, la cifra era quella. Quindi immaginate lo stato d'animo con cui queste persone, questi ragazzi, questi giovani e meno giovani, i comandanti che lasciano i loro affetti sul territorio nazionale, vanno all'estero, sono sottoposti a continue pressioni, pericoli, impegni, decisioni da prendere immediatamente, come possono vivere sapendo che è successo un caso, quello dei due fucilieri, per i quali le istituzioni hanno un po' sonnecchiato, se vogliamo usare un termine eufemistico, per cui guai al ripetersi di questi episodi, ma anzi cercare di trovare una soluzione, perché purtroppo, e per fortuna per loro, gli americani ci insegnano che mai sarebbe successo, e mai è successo, anche in casi eclatanti, e sottolineo che non è detto che i nostri due fucilieri, io li conosco anche professionalmente, possono essere stati autori di questo incidente, perché di incidente si tratta, ammesso che sia successo, e qualcuno si deve chiedere, ammesso che fosse un peschereccio, perché non è detto, potevano essere tranquillamente pirati, è un fatto che io ho notato, ho notato allora quando ero in servizio, c'erano scontri a fuoco, quotidiani, si avevano report, perché immediatamente venivano comunicati a livello comando, adesso non ce ne sono più, non se ne parla, e quindi potete immaginare tutti questi ragazzi che ancora oggi operano in quelle acque, con quale spirito possono operare, sapendo che non è chiaro, o meglio, per noi è chiarissimo il diritto internazionale, che è unico, non è suscettibile di interpretazioni di modo, tra virgolette, e quindi come può essere difficile operare in questa incertezza, non avendo, uso un termine, spalle coperte dai propri superiori e dalle proprie istituzioni. Tre governi, prima Monti, poi Letta, poi Renzi, che sonnecchiano e che non hanno saputo gestire bene questa vicenda. Cosa non è stato detto di questa vicenda? È un naufragio tutto italiano, ancora una volta? Certo, perché in realtà le non-nazioni hanno detto più di quello che non è stato fatto. Scusate il gioco di parole, però è così. È stata proprio l'inattività di questi tre governi che ha dimostrato comunque la debolezza della politica internazionale del nostro Paese. Quindi io invito appunto i nostri connazionali a riflettere su questo, perché è proprio quello che non è stato fatto che è emblematico in questa vicenda, al di là di tutto, insomma. Il fatto che, appunto, come diceva il sindaco, in America si sarebbero mobilitati, sarebbero partiti i servizi segreti, come vediamo nei film, insomma, sarebbe, per carità, senza arrivare a questi eccessi che non fanno parte della nostra cultura, del nostro DNA. Però sicuramente, insomma, si è assistito veramente a un rimpallo di responsabilità, ad un'ignavia vergognosa che ha portato questa situazione, insomma, a incancrenirsi, ripeto. E adesso forse c'è un attimo di guizzo, ma per una situazione drammatica, che è quella del malore, insomma, e quindi è vergognoso da un certo punto di vista anche questo. Noi italiani non dobbiamo solo emozionarci all'inno italiano della Nazionale di Calcio, è giusto anche quello, ma dobbiamo, e noi come militari lo abbiamo fatto quotidianamente, perché le nostre giornate militari iniziano con l'inno nazionale e l'alza bandiera, e vi posso garantire che io personalmente, in ogni occasione del genere, sento vibrare qualche cosa, per cui un senso nazionale, un senso delle istituzioni che viene scemando un po' nella popolazione in genere, e giustamente e ingiustamente, vorrei dire, viene riscoperto adesso che il povero Massimiliano è stato colto da malore. Io telefonicamente sono riuscito a parlare con la compagna, con Paola Moschetti, che appunto era preoccupata per le condizioni. Siamo tutti preoccupati, ci auguriamo che ci sia un impulso positivo nelle trattative del nostro governo, nel quale io ho fiducia, guai a non averne, perché, ripeto, mi considero ancora oggi un uomo delle istituzioni, per cui ho piena fiducia nell'impegno delle nostre istituzioni per venirne a capo positivamente. Ci auspichiamo almeno un ritorno, almeno per ragioni umanitarie, diciamo, De Marò. Grazie. Grazie, grazie Austuni, grazie a voi.